La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo ha donato 65 braccialetti anti-aggressione ai centri antiviolenza attivi sul territorio. I dispositivi brevettati in Italia sono dotati di una serie di funzionalità volte a garantire la sicurezza delle persone che li indossano e che dovessero trovarsi in situazioni di pericolo. Un semplice tocco su un bottone attiva una sirena ad alta frequenza capace di mettere in fuga potenziali aggressori e di attirare l'attenzione di persone nelle vicinanze. Al contempo il dispositivo, collegato allo smartphone, invia un alert sia a contatti presenti nella rubrica della persona aggredita, sia a una centrale operativa che localizza la persona e avvisa le forze dell'ordine. La cerimonia per la consegna dei dispositivi si è tenuta al Teatro Marruccino di Chieti. Al Teatro Marruccino di Chieti abbiamo consegnato dei braccialetti anti-aggressione che sono stati frutto di una idea del settembre del 2022 nella quale ci siamo accorti che c'era un gap per quanto riguarda le donne vittime di violenza domestica e c'era appunto questo lasso di tempo tra il momento della denuncia e il momento della presa in carico dei centri di violenza o addirittura dell'emissione della misura cautela da parte del giudice che praticamente metteva in pericolo di vita queste donne. Abbiamo iniziato una raccolta fondi dapprima con una manifestazione teatrale, poi divulgata a tutta la regione su Facebook e anche in collaborazione con il Rotary Club di Chieti, dapprima con il presidente di Luzio e oggi invece con il presidente di Felice e siamo finalmente giunti appunto all'acquisto di questi 65 braccialetti. 65 braccialetti che sono stati consegnati ai centrati di violenza che hanno aderito alla nostra iniziativa e serviranno appunto proprio per prevenire queste situazioni di pericolo, in quanto attraverso lo schiacciamento di un bottone con una sirena silenziosa verranno attivate delle chiamate a un numero predefinito, mentre invece con lo schiacciamento tre volte dello stesso bottone verrà attivata una centrale operativa che una volta verificata la pericolosità richiamando appunto la donna che ha in uso il braccialetto manderà immediatamente la polizia quindi le autorità competenti sul posto con la geolocalizzazione. Abbiamo proiettato il cortometraggio che avevamo realizzato durante il lockdown e poi abbiamo avuto gli illustri regolatori che ci hanno spiegato le ultime novità introdotte nel 2023 dal legislatore proprio in materia di braccialetti e quindi nel materia del codice rosso e da ultimo con l'obbligatorietà del braccialetto elettronico. Quindi noi ci auguriamo e io in particolar modo che questa iniziativa che è una iniziativa pilota è unica e prima in Italia e in Europa e forse chissà anche nel mondo possa essere replicata in tutte le regioni perché già che potremo salvare una vita umana già avremo fatto tanto quindi ci auguriamo che appunto questa iniziativa possa essere ripresa anche con dei protocolli con le forze dell'ordine, eventualmente con un emendamento o con una proposta legislativa alla quale stiamo lavorando.